Sì ragazzi siamo tornati finalmente su Galaxy Terribile e oggi giocheremo Brawl Stars Non ci abbiamo mai giocato Oggi giocheremo con il mio amico Gioele Siamo tutti e due scarsissimi perché non ci abbiamo mai giocato come abbiamo detto Hai un pochino di capito di me? Sì perché c'è in teoria prima di fare il video abbiamo un po' provato a giocarci Però siamo scarsissimi oltre a scarsissimi Hai tre Brawler Allora Sì io ho tre Brawler Sono, vediamo un po', sono Shelly Sally non so come si chiama perché non ci gioco quindi non lo so Nita e Bombardino Dove ho visto che abbiamo anche la Supercell Cioè di Bombardino in teoria ho anche la skin Questa qua Allora non ti metti o Nita o Bombardino perché io sono Shelly Non ti metto Shelly perché non si che fa Boh io metto Bombardino Così c'è proprio la nuova skin Proviamo a fare qualche partita ecco poi vediamo Siamo scarsi Siamo ultra scarsi Super scarsissimi Perché non ci abbiamo mai giocato non sappiamo Cioè A me ancora non mi si è caricato quindi Non ci siamo male Allora Non so come ci Non sappiamo entrambi come si gioca Vabbè c'è veramente un po' Sì Allora io dirò dovrei fare così Eh 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 Distrutto Oh Oh L'abbiamo ucciso l'abbiamo ucciso Ah ho capito Se tu praticamente vai su queste cose qua Sull'erba Cioè tu diventi tu Non ti nascondi Scontro finale Ucciso Eh abbiamo vinto ragazzi Siamo super scarsissimi Abbiamo vinto Io una kill Gioele Quattro kill Che bello Che hai fatto? Che hai fatto? Anche io ho sbloccato due cose Adesso vediamo Ho sbloccato a raffagemme io Io ho sbloccato a raffagemme Poi vediamo Ho sbloccato dieci gemme Le gemme in Giulia valgono molto più dei soldi Da come ho capito ecco Questo sarebbe il burro il passo Ma ci servono per attivarle tipo Ecco Centosessantanove gemme Eh già Eh fino adesso ho solo dieci gemme io Ticina è zero Sì Va bene Tu Tu che fai Scegli Paris Saint Germain Adesso Facciamo un'altra partita Sì Con il Supercell Va bene Allora intanto Gioeli si connetta a Supercell E intanto vedi Qualcune cose Che per i prossimi video Forse usciranno Alcuni video di Fifa Di Fortnite Fifa più probabile Perché Fortnite E non abbiamo già fatto uno Quindi Fifa più probabile Abbiamo già provato A fare qualche video di Fifa Ma Cioè praticamente Praticamente si sono divisi Quindi abbiamo dovuto rifarli Ma E noi abbiamo fatto Praticamente un video Di Fifa Siamo riusciti a farlo Senza staccar Cioè senza staccarsi E dovrebbe uscire In teoria Non lo so Però forse dopo di questo Forse Io quando te l'ho montato Su Whatsapp Lo facevo a 10 minuti Invece è arrivato per 23 Ah quindi si è staccato Perché la durata minima è di 11 minuti Allora c'è sempre un problemino Ecco Piccolo spoiler Piccolo spoiler Ma non fa niente Adesso quando Joel l'avrà fatto Continueremo a fare un'altra battaglia Perché io da solo Non credo di farci Ho visto che sono più scarso di lui Ma non è bello Sì Cioè almeno Siamo tutti e due Scarsissimi Però lui è Cioè È un po' più forte di me Anche perché Io non lo so usare Tanto bene Sto bombardino qua Perché spara da lontano Cioè Ha Quell'attacco No strano Che non lo so usare Tanto bene Invece L'attacco di Shelly Lo so usare meglio Dai Joel Ecco Fatto Ok Joel ha fatto la supercell Bombardino Niente Una skin di Bombardino Ok Ora c'è la schianita Su Bombardino Allora io uso Shelly Finalmente non devo usare Bombardino Mamma mia Allora Dove sei Joel dove sei Adesso l'uccido Cavolo Quanto so scarso Ok No l'ho ucciso io Godo Oh cacchio Ho ucciso un coso Ho ucciso un coso Il mozzo non colpa un coso Quello lì Oh ho fatto Dove sei Una cosa Che superanti Stavolta Guardate la fila Non c'è la fila Non c'è la fila Ah quindi Tuve a zero Guarda Tuve a zero Ho sbloccato qualcos'altro Sarebbe Ah Che cavolo Ah Punzi energia Tipo i brawler Il personaggio Quello che Eh non posso però Ora Vabbè facciamo un'altra partita Per fare un po' più di coppe Allora Mille Ah cioè Non oggi Perché mi pare Un po' Si è girato Ecco Però stiamo procedendo bene Sembriamo che ci giochiamo da un po' Io ci seguo a caso Oh Ucciso Vabbè Stessa cosa Ah vabbè ma la cosa speciale l'ho fatta io l'unvali La faccia sua Tu sei Lo sai Dai Vabbè E' tutto confuso qua Ucciso sta quella io Vieni qua Horus di cacchio No L'ho ucciso No Devo morire Devo morire Devo morire Mi sono scarso L'ho ucciso L'ho ucciso io No Io ho quattro pasta Giù le sei No Più cure prestate però io Non so che significa Non so che significa Però vabbè Ah io ho fatto anche una missione No No Manca pochissiamo per sblocca Qua Che? Manca pochissiamo per sblocca sta cosa qua Di 640 soldi Vabbè Facciamo per l'ultima partita Perché io lo voglio provare Nita Comunque ragazzi Anche che non faremo video A venire un po' avanti Sì perché sennò Credo che ci metteremo un sacco Ecco Ad andare avanti Quindi Comunque siamo abbastanza forti Per giocare da adesso Vedi qua Uno l'ho ucciso No Sono morto Vabbè però Uno l'ho ucciso Eravamo 2 con 3 contro 1 tipo No Non uccisi 2 quindi Ma prendi quel power up Sto prendo Sì mi qua lottatore di sumo No No E mi uccide mi sa E mi uccide No Scusate No 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 Sì fuori La prima volta Ho vinto io però Due Ah no Hai vinto tu Che Cioè io ho fatto due kill No Due due kill Però io sono morto Due volte Sì adesso Sì adesso si Sì adesso si Oh ho sbloccato il primo Ho sbloccato il primo Il lottatore di sumo Super raro Jesse Ah io metto il primo Lo potenzio pure Selezioniamolo Facciamo una partita Io con il primo L'ho sbruccato adesso Diciamo E' un po' scarsetto eh Dicono Adesso mi mi indico God Uccidi Ma perchè Con il primo E' facile Anche se si scasso Basta qui già Cioè Basta qui già sempre Senza mi fiumbatti Uccidi tutti E' facile Oh guarda che Mossa speciale ha L'ho ucciso No Oh non ho paura di te L'ho ucciso Oh 10 power up Ognuno L'ho ucciso Power up Ah l'uccidiamo L'uccidiamo Siamo No però C'ha la mossa speciale Dai gliela Vieni qua Ma basta E' scappa Vieni Ah lo ci sei io Forse più che io Sì No Di una però Non vale Mannaggia Allora Direi che per oggi